Propongo una bella gita in Alto Adige, Hotel Sonnenberg, Hotel Sonnenberg, Alpin Spa Resort. Ma col Maranza c'è anche. Vabbè, andiamo a Maranza? Volete andare a Maranza? È vero che c'è Eco? E non so cosa fare, c'è Eco ragazzi, non so cosa fare, sentite, non ho idea di cosa fare. Pepe Laff, oggi non ho parole, o meglio, sarebbero tutte bestemmie, datemi da avere così di ente come voi, sempre presenti, la paranoia domenicale, il mio sogno è fingare le tipe alla araba music, il bello è che io faccio video che tutti potrebbero fare nella realtà ma che nessuno ha il coraggio di fare a causa di strane pare mentali. Vabbè, eri giovane. Cose strane del 2014, meglio che non le... Meglio che non le... Beh, ogni tanto vanno sul Twitter, so guardare. È stato anche per il fruscio, ora il fruscio è il ventilatore, non chiedetemi di togliere il ventilatore perché sennò impazzisco. È il fruscio... Cioè, è stato anche per i modificati, grazie, è fresco. È il fruscio anche per i modificati, è stato per tutti. Subbano da Ferrag... da San Valentino. Grazie, Phil. Senza considerare il bug, giustamente, qualcuno dice anche in chat. C'è il bug di Twitch, tutto così, ma per me va bene così, ragazzi. Cosa devo dire? Cosa devo fare? Siamo questi sub, mi accontento di questi sub, se crescono sono più che contento, ma sono anche contento così. Possiamo dire che a settembre ci sarà del content? Beh, io spero che vi possiate abbonare. All'agosto non ci sarà content, questo ve lo possiamo garantire. Però a settembre... A settembre... Sarà, ci sarà. È una settimana anche di vacanza, non avrei avuto mai 10.000 iscritti prima della settimana di vacanza, ma va bene così. Vediamo questo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Va bene, va bene, grazie Z-Miseria, grazie mille per questo... Vabbè, però io mi hai fatto fiorire l'ultima volta. Eh sì, eh sì. Vabbè, meno male così, grazie, vanno unito. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie mille. Scusa. Ben prima dell'estate i numeri stavano... A costi, a costi. Buonasera, signore, documenti suoi e della vettura. Grazie, Matte. I numeri si stavano abbassando. Io per... Una volta facevi interviste, chiacchierate tutti i giorni, più informati interessanti, ora solo ore di reaction. Poi da quando Panetti, ma soprattutto su uno si sono lontani da te, hai perso molto. Hai il 4-5-6 mila sub, ma il potenziale di avere dei 11-12. Non è un caso che Dario sta fisso sui 10, lui un minimo di impegno in organizzazione ce la mette. Piaccia o non piaccia? Piaccia o non piaccia? Vi beccate quello che vi beccate? Piaccia o non piaccia? Se no, se volete che traiarde tutto, facciamo un bel content super full ad agosto e poi ci vediamo tra 7-8 mesi, se vi va. Ma cosa sta facendo la signorina? La signorina stava dando... No. Sembra che stia salutando? No, no, non sta salutando, non sta salutando la signorina. Ma non è di qua. Occhio! Ah, una bambina ieri si è piantata nella stanza degli specchi. Ma non è di qua. La percezione a quell'età deve ancora aumentare. Che dramma l'ha preso! Aspetta, fai passare la bambina? Passa, passa. Eh, va bene, era pericoloso, l'ho detto che era pericoloso. L'ha usata per vedere se c'era il vetro? Ma che modo è? Ma non è di qua. Occhio! A Natale puoi Parti di quello di cui non ti fai mai. Riprendi a smascellare, riprendere a basare, riprendere a basare, riprendere quel pezzo che ti ha rubato franco. Io ho fatto un video con Sid. È Natale, è Natale, è Natale, puoi pittare di più. È Natale, è Natale, puoi sca... Ma lui è un barbone. No, un clochard! Un clochard! Come si chiama la canzone dello zingaro che balla? Oh, ho! Oh ciao ragazzi, grazie ragazzi Grazie per notte, questa è la dedica a voi, la dedica a voi ragazzi Grazie per notte, grazie per notte Grazie per notte Guarda, veramente un artista poliedrico Grazie per notte 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 Il tuffo è sempre un grande classico Sì sì ma stavamo in un'operazione antidroga e ci tuffavamo Perfetto Vuol dire che l'uniforme ti dona Guardatevi è parcheggiato e nel parcheggio diremmo non è donna Ah scusi Vai apri i pochi Ok Luca Ah Luca Gli stai facendo Gli stai facendo Gli stai facendo Si diverte a nascondersi nei ghetti altrui alla ricerca della sua cosa preferita Ma che cazzo bello Aspetta che ti vanno fare la pokemon e lo catturo cazzo Vai catturalo bello Aspetta ti vieni qua che ti catturo Ma non sai contare Che cazzo bello ci faccio andare del cazzo Ma state prendendo per il cazzo Barca puttana vedete che avete sbagliato a fottere No 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 Ma dove cazzo sono i nostri i fottoti soldi Barca puttana vi faccio saltare la testa Barca puttana guardate che c'è la griglia già accesa Ci volete fottere Io terminello Che cazzo forse non è capitato la domanda di mio fratello Beh ci volete fottere cazzo No guardate le documenti Sai vuoi sapere chi è questo coglione? Volete sapere chi è? Chi è? Barca puttana è mezzogiorno Ben Grazie Zanna Abbiamo un criminale pericolosissimo in macchina Stiamo arrivando in centrale Mi ricevete? Ragazzi ma a questo punto l'ho messo io Spostatevi colleghi Cosa funziona? No 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 Allora Lei in arresto e ha il diritto di stare zitto e non dire un cazzo Decido io No piano piano però Mocchinato Spero dai si è esagerato Addirittura ha proprio operazioni Sì sì Grazie Pedals Fuori viola per il mio No ma me l'hanno detto Me l'hanno detto Me l'hanno detto che GTA ora si sta Grazie Si sta Lino brutto Si sta trasformando un po' in tante azioni E tutto Perché tra un poco faranno il wipe del server Quindi ricominceranno tutti da capo Per cui la gente inizia a cazzeggiare Ci sono molte più sparatorie Perché sta per essere Si dovrà ricominciare da capo Per via che inizia a settembre Per cui credo che a fine agosto faranno Rifaranno tutto da zero